Via Lerbacce e Dal Fosso Grande, l'affluente del Pescara, ridotto quasi a una discarica, che nasce a Montesilvano e attraversa Spoltore e il capoluogo adriatico. I lavori interesseranno il tratto di questi ultimi due comuni. La manutenzione è finanziata dalla regione per 60.000 euro, a cui si aggiungono ulteriori 20.000 euro messi a disposizione dal comune di Spoltore. Questo è un primo passo, credo di una serie di altri passi, che nei prossimi anni saranno realizzati insieme dal comune e dai due comuni, con, credo, anche il sostegno della regione, che ha iniziato intanto con questo primo finanziamento. Io sono contento, perché l'anno scorso ho proposto io questa quota di finanziamento, quindi sono felice che si inizino a fare dei lavori e che le amministrazioni possono lavorare insieme in sinergia per risolvere i problemi di Fosso Grande. A causa della pressione antropica e dell'urbanizzazione che si imposta intorno al canale, il Fosso Grande rappresenta un pericolo durante le piogge più insistenti. Nel 2013 un'esondazione causò danni per oltre un milione di euro. Quegli annunciati oggi, come detto, sono lavori di manutenzione e quindi non risolutivi a lungo termine. Pescara spera di accedere a fondi ministeriali per poter effettuare in futuro lavori strutturali. Per il dissesto idrogeologico potrebbero essere immaginati i lavori più importanti. In particolare il comune di Pescara ha già fatto una proposta al Ministero della Regione per un fondo di 800 mila euro per interventi di carattere strutturale, che però siano fatti bene e che rispettino anche l'ecosistema e l'ambiente. Perché questo è un aspetto che dobbiamo tenere in grande considerazione.